buongiorno a tutti benvenuti oggi domenica 17 maggio come sempre analisi settimanale dei mercati forex indici e commodity per quanto riguarda la settimana del 18 maggio 2020 e 20 partiamo come sempre con il disclaimer gli investimenti con scambio a margine comportano notevole rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore sono paolo paesino fondatore del sito tradingpertutti.com vi invito a visitarlo a iscrivervi alla riservata gratuita per poter avere accesso alle otto ore qualcosa di più del corso completamente gratuito per imparare le basi del trading e avete anche accesso quindi al corso di oltre un'ora base di analisi ciclica dove comunque imparerete sicuramente già a osservare i cicli sul mercato e fin da subito quindi avere un enorme guadagno dal punto di vista della vostra capacità predittiva sui mercati in più vi invito a prendere visione dei vari servizi segnali operativi su forex indici e commodity che sono in realtà quelli che ho scritto dax petrolio s&p e nasdaq ho scritto clamorosamente sbagliato e il servizio invece per quanto riguarda il dax sia di segnali che di analisi vera e propria ma direi di passare velocemente e immediatamente alle nostre analisi quindi apriamo qua chiudiamo qua ok partendo con l'eurello quindi il nostro euro dollaro intanto do il benvenuto a tutti quanti non vedo scritto nulla in chat si vedo il simone che ha salutato ciao benvenuto partiamo con l'euro dollaro allora l'euro dollaro abbiamo dato innanzitutto no trading per la settimana il 10 maggio chiaramente si parla di multi day ed è confermato anche sostanzialmente per questa settimana l'intradabilità totale dell'euro dollaro in multi day perché lo possiamo vedere in maniera netta da il 6 di maggio quindi da 11 giorni euro dollaro è fermo tra apertura e chiusura in 40 pips e se prendiamo anche i massimi e minimi in 130 pips avendo candele che comunque hanno una percorrenza media di 80 pips capite voi che è assolutamente impossibile fare trading multi day per quanto riguarda l'euro dollaro rimane assolutamente invariata e sconsigliata l'operatività e multi day anche per quanto riguarda ovviamente la settimana che verrà quindi la settimana del 18 andiamo anche a mettere però proviamo a fare un'analisi ovviamente anche per quanto riguarda il i cicli superiori per vedere se abbiamo qualcosa da poter fare oppure oppure no tanto do benvenuto anche alle manovele ciao benvenuto allora il minimo previsto era per il 14 di maggio il minimo previsto boh non si sa quando sia stato in realtà il minimo l'ultimo minimo è stato proprio del 14 di maggio però e qui non è non voglio fare il fenomeno il mercato è totalmente in laterale quindi non fa testo sì ok 14 maggio preso ma in realtà è fermo quindi non c'è un minimo così come non possiamo considerare un vero e proprio massimo anche se ciclicamente è stato perfetto per quanto riguarda i cicli superiori come vi dicevo settimana scossa il motivo per cui il mercato io parlo chiaramente sempre da un punto di vista ciclo è bloccato in laterale ciao anche ad Antonello ciao anche ad Andrea dicevo per cui il mercato è completamente bloccato in laterale perché abbiamo i cicli superiori che dicono long o dicono short i cicli inferiori che dicono long o dicono short sostanzialmente quando ci ritorniamo un mercato che ha dei cicli che ci danno un'indicazione rialzista io proprio intendo long e dei cicli che ci danno un'indicazione ribassista per me meno intendo short più 2 o meno 2 fa 0 e il mercato si blocca fermo restando che euro dollaro è il cambio secondo me più assurdo a tradare multiday che non va mai fatto in multiday perché qua è una guerra BCE fed tra virgolette guerra esce fuori che cosa? che abbiamo un dollaro che tenta di risalire cioè un euro che tenta di risalire un dollaro fortissimo e quindi abbiamo sostanzialmente una totale neutralità da parte del mercato allora qui abbiamo il 20 settimane allora cicli da 20 settimane il 20 settimane che è se mettiamo la sinusoide si vede meglio vedete è prossimo la sua fase di completa lateralità del mercato lateralità vuol dire che siamo vicini a quello che è il momento in cui il mercato andrà a virare dal ciclo rialzista al ciclo ribassista e noi possiamo vedere bene che abbiamo la spinta qui abbiamo, lo vediamo meglio qua così lo capite meglio e avevamo in questo caso la fase invece ribassista per quanto riguarda il ciclo di 80 giorni a 40 giorni quindi era sostanzialmente laterale adesso che cosa sta per accadere? sta per accadere che assolutamente nulla perché continuiamo a avere anzi sempre più vicino alla fase poi di ribasso che sarà la fase ribassista del ciclo a 20 settimane e la fase rialzista del ciclo a 40 giorni 80 giorni che continuerà a darci una tendenza di lateralità allora noi in realtà cosa abbiamo ciclicamente? fermo restando che è no trading abbiamo il prossimo picco massimo che è previsto più o meno per il 25 di maggio lo andiamo comunque a mettere 25 maggio e il prossimo minimo è talmente lontano che ha poco testo il minimo lo andiamo chiaramente ad aggiornare nella giornata di domani che sarà il 18 che poi potrà essere il 19 poco cambia io voglio mettere comunque la giornata di domani che sarà il 18 per un rialzo quindi la tendenza per quanto riguarda un 40 giorni, un 80 giorni è sicuramente rialzista però quello che a noi non ci dà grossa tranquillità anche al Fabio, allo Spike, al Francesco è il fatto che i cicli superiori non sono al momento allineati con quelli inferiore quindi io mi aspetto tutto sommato ancora una fase di lateralità non abbiamo purtroppo VTL a poter tracciare anzi sì questa del ciclo allora fatemi arrivare un po' di righe se no non capisco più niente ok tolgo anche questo un attimo allora massimo del ciclo a 20 giorni massimo del ciclo a 20 giorni quindi vado a tracciare la VTL che è uguale al stesso colore di quella che vediamo qua che è quella del ciclo a 20 giorni vedete che è lontanissima per quanto riguarda ovviamente il multi day quindi non ha VTL no minuscolo non mi piace quindi non ci può non ci dà al momento assolutamente ancora indicazioni da poter essere utilizzate perché è veramente molto molto lontana dall'essere breccata per quanto riguarda invece le VTL più brevi non abbiamo ancora un 10 giorni molto probabilmente sarà questo il massimo della VTL a 10 giorni scusatemi la rottura della VTL a 10 giorni chiaramente va confermata io nel frattempo comunque la vado già a mettere anche se è un po' anticipate però dando un'occhiata al mercato così credo che cosa sto facendo 20 giorni ho sbagliato tutti i colori scusate eh 20 giorni ok 20 giorni quindi questa è 10 giorni ho fatto un casino con i colori 20 giorni questa qua ok e questa è 10 giorni è corretta la 10 giorni è già più vicina però ripeto non ci sta ancora dando cioè non la posso ancora valutare bene perché non ho ancora la conferma della 10 giorni sicuramente ho già la conferma del 5 giorni che a questo punto potete utilizzare questa come 5 giorni già confermato e poi andare a vedere dove sarà posizionata poi la 10 giorni e poi la settimana prossima intanto mettiamo 5 giorni almeno un'idea di come il mercato andrà a comportarsi poi settimana prossima quando verrà rotto avrò già l'iniziale conferma ciao Paolo e quindi mi permetterà di poter andare a a prendere in considerazione poi un eventuale rialzo di euro dollaro per quanto riguarda i livelli orizzontali li ho tolti tutti qui per avere chiarezza andiamo a metterli adesso da qua avanti farò così settimana in settimana le andrò a cancellare per avere un grafico pulito che si capisca qualcosa allora per come siamo posizionati credo che saranno gli stessi di settimana scorsa abbiamo dato 1,10,24 no siamo più bassi allora il livello per questa settimana io lo manterrei qua mi piace in realtà qui abbiamo avuto una piccola sporcata nella giornata del 14 il mio cane è un baio 1,08,81 1,08,85 rimarrà al livello per quanto riguarda un rialzo il livello invece per lo short ovviamente terrò buono questo 1,07,19 fermo restando che ripeto no trading per la settimana del 18 maggio rimane assolutamente confermata come opzione minimo ciclo quindi andiamo ad aggiornarlo con il 18,5 20 e il prossimo massimo per il 25 maggio 20 salviamo intanto preannuncio di avere non aver aggiornato su il grafico le date di inversione del petrolio sono andato a vedermele poco prima di di iniziare la diretta visto che il foglio pdf è arrivato corretto invece il foglio aiutatemi dire sul grafico non ho aggiornato allora cable cable abbiamo preso uno stoppone in realtà posso considerare di aver fatto una cazzata mondiale perché il multi day mi dava al minimo il 17 di maggio mi sono posizionato long in intra day 4-3 giorni prima l'ho pagata l'ho pagata ovviamente come una candela monster perché comunque è una candela senza vedete che ha chiuso sul minimo assoluto cioè non ha fatto alla fine della giornata ah si ha ritracciato della bellezza di neanche un pip cioè qualcosa di veramente disumano giusto quando ho l'analisi ciclica che mi dice che cosa fare se mi posiziono al contrario sono un idiota è una cosa che posso capire con l'analisi tecnica sostanzialmente ciao Vito dove ho lo scenario long lo scenario short quindi ci sta prendersi un movimento molto forte con l'analisi ciclica questo è evitabile e io da stupido invece me lo sono andato proprio a cercare come come stop loss vabbè a meno ho preso la cantonata le cazzate si fanno anche con l'analisi ciclica non per colpo dell'analisi ciclica ma per responsabilità della mia mia cabeza allora era previsto un minimo il 17 di maggio in realtà il 17 maggio si inclinia con il picco del 20 settimane era minimo ok allora vedete che ho scritto è stata una settimana mostruosa guardate che roba che candela pazzesca che è andata a fare sul settimanale 330 punti la candela e forse la più importante è candela è equiparabile a quella del picco del ciclo a 40 settimane che si era verificata a dicembre dell'anno scorso quindi che non faceva una candela del genere erano 5 mesi erotti sia ribassista che rialzista ok beh se escludiamo chiaramente le due candele di gennaio quella del coronavirus vabbè quelle sono anomale completamente siamo usciti tra l'altro nel canale nel rettangolo di lateralità che più che un rettangolo si era chi era non mi ricordo se come si chiama Giudinapoli che aveva identificato una sorta di caramella che era il movimento di mercato ha rotto questa questa configurazione comunque noi siamo sul minimo del ciclo a 20 e 40 settimane tra l'altro qui ho scritto sbagliato perché ho scritto che del 17 maggio eravamo in sincronia con il picco sin staccato cronia in realtà qui quello che dovevo scrivere lo scritto picco era il minimo non so perché ho scritto picco quindi lo confermiamo minimo quindi è stato corretto l'analisi del multiday io ho preso in fronte bravo Andrea io vedi dei idiota che sono perché quando c'è da dire una cosa la dico su me stesso è che l'analisi multiday l'ho fatta perfetta non l'ho guardata mi sono posizionato long in intraday come un idiota qui proprio si tratta di essere veramente degli stolti ho il vantaggio oggettivo rispetto alla maggior parte dei trader di sapere che cosa con grande probabilità farà il mercato quindi quando andare a cercare a determinate situazioni di mercato e quindi per sapere come posizionare il mercato non l'ho guardato e mi sono posizionato long da stupido proprio da stupido perché l'analisi cichica ci permette di sapere quando e che cosa cercare ok non l'ho ignorato vabbè ho preso praticamente il rimbalzo di un livello da arrogante posso dirlo però è stato non un'arroganza un errore vero e proprio tu sei stato molto più bravo di me quindi ti faccio i complimenti per avere sfruttato questo movimento ottimo di più di 350 pips che ha fatto da quando abbiamo fatto l'analisi dal 12 quindi cosa aspettarci allora ci aspettiamo un minimo ciclo con il 17 di maggio qua quello che mi mette un po' in difficoltà quindi multi day è stata corretta anche questa ma allora 97 ok siamo allineati e ci aspettiamo in questo caso allora in questo caso siamo in una situazione particolare perché perché abbiamo i cicli superiori lo vediamo bene dove siamo in una fase di ripartenza da confermare del ciclo a 20 e 40 settimane allora molto probabilmente a 1.1990 qualora ci dovessimo arrivare qua ci sarà mezzo mondo che si posizionerà al ribasso ok per la rottura del livello di supporto e sarà da un punto di vista tecnico la trappolona per gli shortisti qualora ci dovesse arrivare poi magari crollerà io basandomi sull'analisi cicli che chiaramente non andrei mai e poi mai a cercare delle fasi di ribasso in questo momento perché ciclicamente non ci stiamo nel mondo più assoluto ok 37 per 2 fa 74 e tra l'altro vedete che siamo già anche oltre perché in realtà già con fine aprile avevamo la possibilità di assistere a un ribasso se vado a fare così tra l'altro c'era anche armonia quindi da qua io mi aspetto assolutamente ciclicamente cicli superiori agli alzisti quello che non quadra è che abbiamo i cicli inferiori che sono ancora al ribasso e quindi ahimè avendo un 80 giorni che è questo un 40 giorni che è questo che sono al ribasso e avendo quindi abbiamo un meno 2 nel ciclo inferiore un più 2 nel ciclo superiori cosa ne uscirà fuori pan laterale ciao Gianpaolo laterale significa che probabilmente il prezzo rimarrà a cazzeggiare sconcendetemi il termine su questi livelli potrebbe rientrare all'interno di 1,21,50 e rimanere qui a sballonzolare per qualche giorno vedremo che cosa succederà se così farà oppure no allora intanto in questo momento abbiamo comunque la possibilità di vedere allora abbiamo un minimo il 19 il 19 è domani in realtà spostandosi di due giorni come sempre abbiamo già il minimo e quindi fino al 27 di maggio abbiamo in realtà armonia abbiamo 4 cicli che sono orientati al rialzo quindi andiamo a mettere in questo caso 27 ho detto 27 maggio e il 19 abbiamo il minimo quindi l'analisi settimana scorsa è stata corretta e adesso andiamo a posizionarci in questa maniera per questa settimana cercare operazioni rialziste assolutamente corretto non che qua come ho fatto io la cratinata mi raccomando ci si va a piazzare l'onco perché è sbagliato da aspettare che ci sia un segnale ok quindi un segnale vostro in questo caso sono diciamo cose che dovete fare voi non sono io che devo dirvi entrate adesso al mercato no per quello di servizi a parte che anzi se volete abbonarvi tutti insieme potremmo sicuramente averne un ingiovamento il mese comunque sta andando molto bene peccato quel cavolo di cable che è andato a creare problemi tra l'altro questo ciclo da 20 giorni rispetto alla media è già molto ma molto più lungo perché la media era di 16 qui siamo già arrivati a 20 quindi sono andate ben oltre a collacchiare la media qui non abbiamo nulla a poter tracciare qui ho già a poter tracciare il ciclo a 10 giorni che è questo quindi vado a mettere un'altra VTL del ciclo a 10 giorni e rappiazziamo qua così è ancora molto lontana l'FLD è lontana anni luce veramente da questa è parola 20 giorni lontana anni luce dal prezzo attuale andiamo a mettere però con la 10 e guardiamo cosa ci racconta con la 10 un po' più vicino ovviamente coincide molto con la VTL tutti i concetti che chi ha acquistato il corso sa benissimo e conosce molto molto bene quindi per ora sarà importante e bello vedere poi la rottura della VTL e delle file di insieme ci darà un'informazione notevole per poter posizionarci poi al mercato in multiday più serenamente ma ciò avverrà non prima chiaramente di giugno per un rialzo sostanzioso facile che il mercato adesso se andrà a ritracciare trovi ostacolo sulla VTL magari non questo ma anche qua per chi mi conosce e conosce il metodo sa cosa dovremmo andare a cercare allora noi che cosa dobbiamo possiamo vedere innanzitutto sul foglio Excel vado ad aggiornare quindi vado a mettere il rialzo per il 19 18 19 niente cambia e il ribasso per il 27 ok i livelli mi piace chiaramente questo livello di supporto di 1,21 1,51 dove poter andare a cercare poi un rialzo lo short sarà ovviamente con la rottura questo 1,19,90 sarà su 40 ah no ce l'abbiamo qua perfetto 1,19,90 ok livello sicuramente importante beh basta possiamo levarla ormai non ci serve più 1,20 e 10 rimane in realtà non sto a piazzarlo qua su questo spy questo è un livello che mi piace di più perché c'è stato più una respinta qui è stato più uno spazzolare a tutti gli shortisti quindi 1,20 e 13 1,20 è il livello che mi piace di più come livello importante che però nel nostro caso non andrà in modo più assoluto a dover essere preso in considerazione uno short come si deve io Mauro fossi in te allora se sei short non ho idea di quanto tu ciao anche al Nicola non ho idea di come si dice di dove tu sia posizionato quando tu sei entrato quanto tu stia guadagnando se stai guadagnando allora in realtà questo 1,20 e 13 lo potrebbe anche andare a vedere anche se vuol dire fare un'altra giornata o altri due giorni di ribasso che ci stanno comunque eventualmente proteggi ti metti un trading stop magari scendi di te in frames che ne so su un H1 un H4 sposta lo stop di candela in candela finché va va sai che allora con l'analisi ciclica non andiamo adesso a cercare degli short però se si è short nulla vieta al mercato di non ritracciare fino al 27 e di andare continuare a ribasso da 1,22 a 20 sei long fischia sei long da da buono quindi sei long da 100 pips ovvio non farli andare a zero piuttosto metti 1,21 a 50 te e sono 120 comunque che te ne mantieni 70 pips che ti mantieni questo è un livello importante se rompe qua andrà a fare il massimo del 27 però io penso che lateralizzerà più che esplodere comunque proteggiti short non ci andrei assolutamente allora dicevo 1,21 a 50 1,21 a 56 quindi devo andare a sistemare 1,21 a 50 per il long e invece 1,21 a 13 per quanto riguarda lo short che ovviamente non andrà assolutamente preso in considerazione qui ho scritto giusto massimo 27 minimo 19 ok andiamo a vedere Audi USD Litecoin chiede Andrea ce l'ho Litecoin qua sopra mi pare di sì se ce l'ho lo guardiamo inizia con l'incubo questo pannello che si apre in continuazione allora Audi USD 16 maggio e 11 maggio ok allora Audi USD vabbè continua a essere una schifezza basta questo giro qua lo scrivo perché è inutile perdere tempo no analisi 18 maggio perché è inutile non ha senso Audi USD è lì fermo non si muove è fermo da sostanzialmente il 23 aprile un mese che è fermo in 190 pips con candele da 80 quindi intradabile multi day guardiamo sopra come siamo posizionati sopra siamo siamo sempre al solito discorso abbiamo 40 settimane che questo che è ancora nella sua fase di rialzo ok sta salendo ora abbiamo il 20 settimane che è questo di mezzo che sta scendendo quindi qua sopra siamo a 0 qua abbiamo il 40 giorni che era una fase di rialzo l'80 giorni che è questo che era una fase di ribasso l'80 giorni che era una fase di rialzo che quindi ci dava 0 totale laterale abbastanza facile da da prendere in considerazione siamo ancora messi malissimo e quindi direi che ancora per questa settimana potremmo rimanere ce ne fermi anche se si si assolutamente immobile non si può fare veramente nulla quindi direi no analisi 18 maggio faccio così e vediamo settimana prossima se saremo un po' più fortunati questo ad esempio diventa un vantaggio per l'intraday invece ok vado un attimo ad aggiornare anche il foglio excel questo giro vado a mettere i trattini ok solo un attimo perfetto ok andiamo a vedere salviamo questo bellissimo grafico e andiamo a vedere adesso però intanto l'analisi qui abbiamo il 10 giorni ma perché ho 10 giorni dappertutto ma questo è un 20 ho fatto un po' di casino questo era il 20 e questo è il 10 vado a mettere le WTL così ce li ho poi la settimana prossima andiamo a vedere euro GBP che settimana scorsa era no trading non ho idea di cosa sia successo se continua ad essere una schifezza o meno FCA chissà chi ce l'ha con l'analisi dovrebbe euro GBP ah si è vero con il traccolo della sterlina euro GBP ha preso ha preso una direzione cerchiamo di riuscire a trovare dove sono i minimi perché qui è un gran casino 63 ci può stare 14 ok allora qui è perfetto ma che candela che si è sparato qui è perfetto allora vedete che il minimo previsto è incredibile il minimo previsto sul settimanale time frame che non c'entra niente perché tradare i time frame sulle piattaforme non porta vantaggi nel senso che non prevede nulla l'analisi ciclica ci diceva che qua nella settimana del 3 di maggio si sarebbe presentato un minimo in realtà il minimo si è presentato la settimana prima non la cambia comunque qua short non si andava più si sarebbe andati solo long e effettivamente guardate qua puntuale preciso che più preciso non si può sul minimo è partito il rialzo che su rgbp andrà a concludersi a giugno al più o meno il 7 di giugno anche se in realtà abbiamo già rialzo all'inizio di questa settimana che è il 17 di maggio con il prossimo minimo il 31 di maggio e poi il massimo successivo il 7 di giugno quindi abbiamo già un mese fatto ok quindi qui abbiamo comunque una spinta rialzista per quanto riguarda euro gbp stessa cosa equivale dovrebbe darci qua qui siamo arrivati quindi praticamente eh boh qui non si capisce niente 120 qui abbiamo sì qui c'è già oh oh non riesco a fare questa analisi se mi metto così forse sì allora qui ci dà massimo minimo se rimane un traperiodi un trapicchi allora potremmo essere corretti però il trapicchi nell'analisi ciclica non mi piace per niente soprattutto all'interno di un ciclo da 60 giorni non ha senso perché io in realtà ho minimo qua minimo 23 di maggio poi il picco massimo il 25 di maggio che avrebbe veramente poco ma poco senso perché secondo me questo movimento qua allora cicli da 55 70 siamo perfettamente allenati come media però non mi fido cioè non mi fido non prendo chiaramente spunto da l'indicatore che serve solo per darmi una visione di massima perché poi è con l'FLD che io vado a lavorare quindi mantengo è difficile sempre questa analisi da fare allora mantengo il dove è sto massimo che non capisco è qui però quest'area non è male in realtà non è un è un è un'area che è questa quindi allora manteniamo proviamo via qui è un po' banzai ok allora direi massimo ciclico mi dà il 17 quindi il 19 maggio ok e il minimo me lo dà il più o meno il 23 di maggio 23 barra 25 di maggio però mi piace veramente ma veramente poco ovvio in questo momento non ci sono motivazioni per andare short nel senso che la candela di certo di ribasso non ha niente proprio zero assoluto ok per quanto riguarda i livelli di prezzo allora il mercato dove tra l'altro non c'è neanche un livello qua dove per dire ok il mercato potrebbe andarsi a fermare e quindi fermandosi lì mi potrebbe dare delle delle indicazioni su il su un suo stop 90 e 13 è un bel è un bel livello anzi il livello è più questo qui siamo più qua quindi questo livello di 0 89 e 90 allora vado a levare un secondo le VTL che ormai non servono più questa che invece serve la metto qua e la lasciamo qui ed è un 40 giorni ed è perché di questo colore ma non è che mi cambia i colori da solo sto cavolo di metatrader perché è impossibile ok questo è 40 giorni perfetto e questo non ci serve più altre VTL a poter tracciare non ne vedo qui a rialzo ribasso qui a ribasso quindi non vale questa non è valida solo una che tristezza perché l'altra che abbiamo avuto era questa qui che parla ormai è stata breccata e quindi a noi non ne parla adesso però per un la vado a mettere ovviamente sa il perché la vado a mettere no si allora 15 15 questo no 10 giorni 10 giorni scusate se sto un attimo zitto ma sto ok si ROGVP è una schifezza beh secondo me il nome più corretto schifezza che bestia bestia ci sta anche ma poi io ROGVP lo odio con tutto me stesso quindi PUTL 10 giorni allora vado ad aggiornare un attimo Excel prima allora innanzitutto il minimo 23 maggio 20 il picco massimo il 19 maggio 20 i livelli allora 08873 qua per un ribasso e per un rialzo 08992 08990 più o meno che idiota allora 0.8990 0 scusate che sul foglio Excel ho fatto un casino madornale ok 0.8990 per quanto riguarda il long che non va chiaramente preso per quanto riguarda lo short 0.8872 che è quello che sicuramente mi piace di più abbiamo pochi giorni perché 4 giorni dovesse la rottura verificarsi il 21 o il 22 chiaramente la signora ok questo è importante dovete sempre ricordarlo quando guardate la mia analisi il minimo il minimo il 23 di maggio e il massimo il 19 maggio ok salviamo euro GBP veramente una schifezza andiamo a vedere adesso il crude e togliamo queste perché non si possono guardare ah no ho sbagliato è Z crude oil pardon il petroglio ok allora petrolio qui non molla più non molla una virgola ah ok qui era quello sbagliato perché il petroglio sul foglio Excel che è questo lo vado ad aprire un secondo che è arrivato a tutti voi veli settimana dell'11 di maggio c'è Excel pdf sul petroglio avevo messo vedete il picco massimo il 22 di maggio e il minimo l'11 di maggio ok io invece qua da genio ho invertito ok ho assolutamente invertito ho scritto picco 11 e minimo 22 ho invertito le date in realtà è corretto per fortuna quello che vi ho mandato perché il picco era il 22 e il minimo era l'11 non so perché ho scritto al contrario perché sono un genio quindi mantengo questo 22 come picco massimo questo chiaramente adesso lo andiamo a cambiare perché era quello era quello dell'11 ok l'11 che era qua è il minimo si è venuto a verificare l'ultima candida rossa l'11 quindi è stato corretto adesso noi manteniamo il 22 in realtà potremmo già essere belli che arrivati ok perché vedete che questa è comunque un'area in cui già possiamo iniziare ad aspettarci i ribassi per quanto riguarda il petrolio rimane interessante il 29 il 94 come rottura o anche il 32 come rottura ci può anche stare che vada a chiudere il gap ma io non le guardo quelle cose lì una cosa che sicuramente guardo è questa VTL del ciclo a 40 giorni ok che vediamo qua che non vale cancelliamo ciao esperto allora vediamo se riusciamo a trovare qualche VTL da tracciare che è meglio allora qui il minimo quindi questo niente in verticali non ne ho neanche una per quanto riguarda il multiday questa la possiamo mai togliere tanto non ci serve più questa invece la teniamo valida purtroppo per il ribasso non ne ho una da poter valutare questa questa sì no perché qui niente non ne abbiamo che peccato ma beh questa questa era già rotta quindi non ci interessa purtroppo non ne abbiamo abbiamo questa la teniamo buona perché non la possiamo usare allora quello che possiamo utilizzare sono chiaramente adesso da prendere in considerazione le medie mobili cicliche medie mobili cicliche che è molto vicino alla medie mobili del ciclo da 80 giorni nominare che è questa gialla ed è a mio avviso il target per il rialzo adesso il multiday da poter prendere in considerazione se vado a mettere sull'uicli siamo siamo a capolinea per quanto riguarda la chiusura del ciclo a 18 mesi addirittura questo questo è un 40 settimane vedete che siamo ancora nella fase ribassista del 40 settimane però siamo sostanzialmente quasi arrivati quindi qui siamo già nell'area in cui ci possiamo aspettare un rialzo anzi siamo vicini all'fld quindi per chi chiaramente conosce l'analogico sapete che cosa sto parlando è un momento per quanto riguarda il petrolio per quanto riguarda i cicli grandi sicuramente importante e difficile da andare a valutare in questo in questo momento per un'operatività ovviamente multiday guardiamo limitiamoci il ciclo di 80 giorni e vediamo che cosa succede allora picco massimo lo manteniamo per il 22 in realtà potremmo andare a mettere già anche io vado ad accorciarlo al 20 più o meno scusate vado a mettere anche un 19 un 18 bar 19 secondo me siamo già belli che arrivati perché comunque qua mi dà il picco massimo ok qui c'erano già quindi secondo me siamo come fa dal 16 perché 15 erano arrivati quindi tra domani dopo domani io da un punto di vista ciclico considero già buono il picco massimo rimane questo 22 che sarà un 20 barra 22 lo vediamo queste due minimi qua le date per il minimo quindi lo mantengo in questa situazione vado ad aggiornare il foglio Excel con un 19 per quanto riguarda il petrolio per fare rischio anziché tenere il 22 quindi 19 maggio e mantengo valido il minimo del 22 a questo punto che prima avevo fatto casino stavolta ho scritto giusto 22 il minimo e 19 il massimo ok anche sul grafico ho scritto correttamente qui metto i trattini quindi vuol dire che non vale non lo so io continuo ad avere connessione buona mi scrive youtube studio quindi non so se sia una roba mia non so gli altri qui c'è un bel tempo qui è iper sereno non mi sta dando problemi a sto giro buh ripeto a me dice connessione eccellente quindi vuol dire che la mia trasmissione è pulita adesso perché me lo scrive quando non va salviamo il petrolio allora andiamo a mettere i livelli che cosa sto dicendo pardon 29.95 rimane un livello per un long da non prendere chiaramente in considerazione invece per lo short questo per lo short manterrei sì mi piace questo 26.90 allora per quanto riguarda il DAX il DAX avevamo dato allora no trading multi day per quanto riguarda la settimana dell'11 maggio ok e avevamo un minimo previsto vabbè non ho fatto nice quindi niente allora in questo caso abbiamo il picco massimo il prossimo picco massimo che è previsto era previsto per il 18 e sembrerebbe essere corretto chiaramente non è stato corretto il minimo nel 12 di maggio perché il mercato ha continuato a scendere ed è dato fino al 14 abbiamo sbagliato di poco in realtà adesso cosa ci possiamo aspettare andiamo un po' a vedere allora allora multi day continua ad essere inguardabile vedete che time frame settimanale che a me non interessa nel senso che sapete che io guardo i cicli non il time frame però sul time frame settimanale siamo alla quinta candela inglobata uno schifo che più schifo non si può però dal punto di vista ciclico siamo con il 18 mese a rialzo il 40 settimana rialzo e il 20 settimana rialzo quindi la spinta long sul DAX al momento è importante e sembra direi sembra essere arrivati a capoline anche circa da 80 giorni nel senso che abbiamo il 40 giorni che è rialzista però l'80 giorni è laterale ok è assolutamente laterale l'80 giorni perché se facciamo così vedete che siamo sul picco anzi l'80 giorni sta per iniziare la sua fase di ribasso quindi al solito abbiamo una non tendenza ancora una volta per il DAX il prossimo picco è previsto per il 20 di maggio quindi capite voi che siamo totalmente laterale ancora per quanto riguarda il DAX quindi lo vado a mettere multi day mi dispiace 11 maggio settimana nel 18 maggio laterale no trading purtroppo non è ancora il momento lavorabile tra l'altro siamo appoggiati su dei medi mobile cicli che fin quando il prezzo non arriverà sopra la media mobile del ciclo da 60 giorni io non farò assolutamente niente buon signori basta per questa settimana vi saluto vi auguro una buona settimana di trading ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti